Licio Gelli vince anche da morto, così titola il Corriere di Arezzo parlando della decisione della Corte d'Appello di Firenze che ha ribadito la stessa posizione del Tribunale di Arezzo in merito alla richiesta di esproprio nei confronti degli eredi, formulata dalla Procura. Il ricorso era stato infatti presentato a suo tempo dal Procuratore Capo Roberto Rossi contro la decisione del Tribunale che negava la confesca della dimora sulla collina di Santa Maria delle Grazie. Qui il venerabile ex capo della loggia P2 ha vissuto fino alla sua morte avvenuta nel dicembre 2015. È considerato valido l'atto di vendita dai figli di Gelli alla società della vedova e del nipote, un passaggio di proprietà per il quale l'Agenzia delle Entrate chiedeva la revocatoria ritenendolo un altro blef per far sparire il bene dalle disponibilità di Gelli. La villa fu acquistata da Gelli nel 1968 dalla moglie di Mario Lebole, del quale era socio dopo aver rotto con la Permafex. La pagò 12 milioni di lire. All'epoca Gelli, per il Tribunale e adesso anche per la Corte d'Appello, non poteva essere considerato personaggio pericoloso e quindi sulla base di questo l'acquisto non è stato perfezionato con soldi di dubbia provenienza. Adesso la Procura Generale può fare ricorso contro il verdetto di fronte alla Corte di Cassazione.